Che bella santa, che bella santa, ora ora arriva di Pachino Quante cose belle che ci sono nel suo mercato, quante, quante Che profumo che fa il suo qua a Roma, sta qua a Roma, che profumo Da Napoletano, Forza Palermo Che bella, che bella, che bella, che bella Allora, ci troviamo qua con due persone, intanto facciamo fare la prima presentazione Tu ti chiami? Aurora. Ma Aurora come di cognome? De Filippo E qua accanto c'è la mamma, un motivo c'è in un programma rosa nero Però, perché c'è questa mamma? Lei nasce a Storo Allora, Francesca, nasce a Storo, però La tua vita, come c'è Nerentola Ha uno sviluppo un po' strano Improvvisamente tu conosci un ragazzo Uomo palermitano, che viene qui A insegnare così come te Vi conoscete, nasce l'amore E quindi nasce questa unione Da cui nasce appunto Questa bellissima bimba Che noi vediamo qua accanto a noi Che ormai è una ragazzina Tra l'altro poi ora ci direi anche Fa sport Può darsi pure che presto anche chi ci guarda Vedrà una futura campionessa Che vedremo anche nel mondo Lo diciamo del pattinaggio avanti Lo diciamo adesso, poi lo diremo dopo E quindi tu hai questa conoscenza E questa persona e improvvisamente Quindi nasce questo amore Però noi lo sappiamo Tutti i siciliani Come diceva il mio amico Renzino Barbera Noi abbiamo il nostro ombelico Che quando partiamo Rimane attaccato nella nostra terra Con una puntina di disegno Per cui Per un certo tempo Non fa male Che sta attirato Da quel punto Fino a dove siamo arrivati Poi a un certo punto Comincia a restringersi A attirare Perché è arrivato il momento di tornare E quindi Qui ora ce lo racconti tu Hai cominciato a minacciare Io non ci vengo Te ne vai da sopra Non verrò mai Esatto E sono state le ultime parole famose Esatto Aspetta Ridiciamolo di nuovo Io a Palermo Non verrò mai Perfetto Benissimo Invece? Invece ci vivo da 5 anni Ormai Perché poi mio marito Giustamente ha sentito fortissimo Il richiamo della sua terra E ha deciso di scendere Soprattutto perché l'attività paterna L'ha richiamato un attimino giù A rispetto del fatto che sia io che lui Siamo insegnanti Ha voluto comunque lui Proseguire l'attività del padre Che ha un esercizio Un bar E quindi l'ha ristrutturato L'abbiamo... Ricordiamo anche il nome del bar E dove si trova Tra l'altro è un posto anche prestigioso Di Palermo Perché siamo al centro Il bar si chiama Moving Cafè E si trova in via Petrarca Che è una laterale di via Notarbar E noi viviamo lì Diciamo per noi palermitani Accanto alla stessa sala del turismo Ecco esatto dove c'è il turismo Un pochino più avanti Certo E la corte dei conti di fronte E questa è una... Sinceramente un'ottima zona Io ci vivo ormai da cinque anni E quindi abbiamo iniziato La nostra avventura palermitana Che per me è stata ovviamente All'inizio un pochino traumatica Perché giustamente abituata a vivere In un paesino come Storo Per chi l'ha potuto vedere in questi giorni Il salto è stato abbastanza forte Ora devo dire A distanza di cinque anni Che il bilancio di questo trasferimento È più che positivo Perché sicuramente come tutti i cambiamenti Portano un forte arricchimento personale Mi ha aiutato questo trasferimento Proprio sul piano mio È stata una sfida con me stesso Ho dovuto ricostruire una vita Da capo Ho dovuto ricominciare da zero Per tutto Per i bambini Per le scuole Per il lavoro Anche abitudini di vita Abitudini di vita completamente diverse Orari diversi Cultura diversa Cibo diverso anche Cibo diverso Dai funghi alle arancine Insomma Pane con le panelle Però devo dire molto buono Quello mi piace E grande abbondanza di pesce Qui ovviamente Noi abbiamo la selvaggina E la polenta Però diciamo Con questo connubio Maremonti È stato foriero Sicuramente di cose Molto positive Infatti Spinti dall'entusiasmo E comunque Anche dal grande amore Per la città E per le cose belle Io e mio marito Abbiamo deciso anche di aprire Un altro locale Esatto Per rivalutare anche una zona Che è quella di Romagnolo Che è abbastanza Diciamo Purtroppo Non troppo Importante ma un po' degradata Diciamo Ecco E abbiamo aperto un locale Molto carino Frequentato da molte persone Della Palermo Diciamo Centro Più che della zona laterale E quindi Abbiamo nel nostro piccolo Portato un pochino Di bellezza Di cambiamento E anche una punta di trentinità La particolarità di questo locale È che abbiamo un servizio Di animazione Serale Per i bambini E quindi Le persone si Come dite voi palermitani Si stranizzano Del fatto che Comunque È un locale Molto A misura di bambino Con i fasciatoi I seggioloni Tutti questi servizi Che qui in Trentino Sono ormai considerati La normalità Specialmente nella zona dell'Alto Adige Giù Diciamo che sono Un po' una novità E questo È stato Siamo stati un po' pionieristici In questo senso Però siamo stati Ampliamente ripagati Dall'affetto Dei clienti Che ci vengono a trovare E quindi Sono bellissime soddisfazioni Senti Vogliamo ricordare pure Come si chiama tuo marito Mio marito si chiama Giuseppe Salutiamo Giuseppe ciao Ciao amore mio È Un bravissimo ragazzo Oltre che un bellissimo ragazzo È proprio un siciliano Con gli occhi chiari E questo locale si chiama Acqua Club Si trova in via Messina Marine E diciamo che ecco Senti Invece volevo chiederti E a questo punto Dopo lei È arrivato Sono arrivati Altri due Diciamo anzi Due maschietti Sono nati Cristian e Mattia Con l'amore per la bicicletta È vero Un ciclista sfegatato E invece Mattia Ha compiuto un anno La scorsa settimana Quindi ancora Non sappiamo bene Cosa gli Per adesso Gli piace molto mangiare Da buon siciliano È una buonissima forchetta E quindi Diciamo Si è creata questa simbiosca Sì Lui riesce a tifare Storo e Palermo Mio marito no No Io sì Il mio bambino ieri Quando c'è stata l'amichevole Col calcio chiese Era molto preoccupato Ma ora noi andiamo al campo E per chi devo tifare Io per lo Storo O per il Palermo Vedi tu quello che vuoi Certo Allora facciamo una cosa Io tifo per tutte e due Esatto Ha fatto bene Perché sono metà di Storo E metà di Palermo Va bene Mi pare giusto Senti E invece vogliamo dire Ora torneremo anche su questo Invece lei mi dicevi È bravissima Perché la possiamo venire a trovare Proprio al giardino inglese Nel campo È parte della squadra di pattinaggio Del Mediterraneo Con il suo allenatore Si chiama Ugo D'Azzo Ed è già una piccola promessa Del pattinaggio artistico È veramente È stata accolta a Palermo Con grandissimo affetto Dalle compagnie di squadra Che sono tutte più grandette di lei Perché già lei è nella squadra E a scuola dove va? Senti E c'è un'amichetta più Del cuore Come capita sempre La guardi qua Nel Adesso nell'obiettivo E la saluti Perché lei Poi stai tranquilla Che il mio programma Lo guardano in tanti E faremo in modo anche Di dirgli quel giorno Guarda che qualcuno Ti sta mandando i suoi saluti E allora Guarda qui in telecamera E mandagli i saluti Diggli una cosa Un pensiero bello Ad un'amica tua Del cuore Vuoi salutare tutte le tue compagne di classe? Un ciao Ciao E allora Però devi dire a quali compagni vuoi salutare? Le compagne mie della classe? Ah Le mie compagne della classe seconda Sì Della maestra delle cammarata E soprattutto i maschietti Che sono tutti dei tifosi Appassionati Di quale squadra Di quale squadra Del Palermo Logicamente E quindi in questa maniera Quindi è una storia diciamo bellissima Perché tutto ti puoi aspettare Di venire senza nessuna offesa A Storo Dove soprattutto diciamo Non siete in tantissimi Come abitanti Siamo in pochissimi E dici Ma guarda che C'è una persona Francesca Che dice che sta a Palermo E via a Palermo Quindi già Si era creato Questa simbiosi Tra Sicilia E Trentino Come dicevamo Nella conferenza stampa Che abbiamo fatto Col sindaco E anche con Giussi E con gli altri Dico in fondo Noi siamo pure molto vicini Perché a noi come dicevamo Ci chiamano Terroni E vabbè Ma voi siete Terroni Del Trentino Sì Noi siamo considerati Terroni Del Trentino Perché abitiamo proprio sul confine La Lombardia Nell'estremo sud Quindi a questo punto dico Non potevamo che Andare d'accordo assolutamente Ma ci mancherebbe E quindi dico In questo senso Sono sicura che voi a Storo Abbiate trovato un ambiente carico Veramente di grande affetto Di grande Così semplicità Però Tutto Veramente Ci siamo sentiti a casa nostra E questo ci fa certamente piacere Senti Vogliamo chiudere Ecco Un saluto O mandi tu adesso A tutti gli amici Che hai incontrato Magari Ora di recente Perché sei arrivata ieri O l'altro ieri Sì Io sono stata a Palermo Un paio di giorni In occasione di un matrimonio E devo dire la sincera verità Salutiamo Decine di persone Le persone stanno impazzendo A pensare che il Palermo In ritiro Nel paesino E tutti mi chiedono notizie Quindi io ne approfitto Per salutare Tutte le persone Che si sono interessate Che con grandissimo affetto Vi posso assicurare Seguono questa squadra Perché forse da dentro Non si ha la percezione Di quanto veramente I palermitani amino La loro squadra E ne siano veramente orgogliosi E di questo Ve ne posso portare Una testimonianza Più che diretta E veramente Io stessa Da astorese Palermitana Sono orgogliosissima Di raccontarlo Di raccontare Di portare la mia testimonianza E anzi ne approfitto Ringrazio La squisitezza di Mario Giglio La sua grande professionalità Per avermi dato Anche l'opportunità Veramente di poter dire Questa cosa A tutti quanti Senti è un'altra Un'ultima cosa Hai parlato di due ragazzi Che si sono sposati Allora dici come si chiama E facciamo gli auguri Pure a loro Se si sono sposati A dire la verità Il quarantesimo di matrimonio Ah il quarantesimo di matrimonio Dei miei suoceri Ah allora ancora di più Che hanno veramente coronato Ricordiamo Nome di suocero e suocera Si chiamano Paolo e Benedetta Allora Paolo e Benedetta Tanti auguri per i vostri Quarant'anni di matrimonio Ecco Abbiamo fatto una festa bellissima Ed è un traguardo Ormai al giorno d'oggi Quasi irraggiungibile Irraggiungibile E allora Speriamo di festeggiarne Tanti altri insieme a loro Auguri E che lo fate anche voi Con i vostri figli Lo speriamo tanto Però A questo punto Pure tu lo devi fare Perché Questa è una cosa Obbligatoria Nel mio programma Quando si finisce Il mio motto qual è? E siccome nel cuore Siamo rosa nero Forza Diciamolo Forza Palermo Palermo Pure tu Forza Palermo sempre Bravo Bravo Forza Palermo Forza Palermo Diciamolo 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti